Ahoi pirati! Oggi vi farò vedere alcuni trucchetti da fare con la spada. Prima però, vi vorrei avvisare che se non siete iscritti al canale, un giorno arriverà Maurizio Costanzo, che cantando vi distruggerà la vostra nave. Iniziamo dalle basi. Per prendere la spada, vi basterà ruotare la rotella del mouse. Per metterla via, vi basterà premere X. Tenendo premuto il tasto destro del mouse, entrerete in modalità parata e se qualcuno tenterà di colpirvi da davanti con una spada, non vi farà danno a meno che non sia un colpo potenziato. Tenendo premuto il tasto sinistro, farete un colpo potenziato. Questo fa più danni al nemico e ignorerà la spada parata dell'avversario. Una volta fatto il colpo, dovrete aspettare qualche secondo prima di potervi muovere per recuperare la stamina. Se tenete premuto prima tasto destro e poi tasto sinistro, farete lo stesso colpo potenziato, ma avrete molta più mobilità durante il colpo. Potete usare lo stesso trucco per muovervi più velocemente. Vi basterà caricare il colpo e prima che lo faccia premete spazio. Potete usare lo stesso trucco su un posto alto per fare il famoso salto del delfino. Grazie a tutti.